partenza valida vai con le premiazioni ok allora ancora Franco Zucchini alla premiazione chiamiamo terzo posto per Denis Oppio Uganda 47'39 medaglia di bronzo terzo posto secondo posto per l'aeronautica militare con tempo di 47'37 Francesco Cappellina 45'79 il tempo del vincitore Matthew Hudson Smith Gran Bretagna un applauso al podio dei 400 maschili 52'6 passaggio agli 8 per Roberto Severi Torpatria Cusmilano davanti grazie grazie anche al podio dei 400 ultimi 200 metri se ne riusciva ha terminato il suo impegno ha tirato 600 metri della gara anche questa è un under 20 un grande invito per vedere chi riesce a scendere magari sotto l'uva e 50 sarebbe tutt'altro che allora attenzione ultimi metri con il 78 Lorenzo Pilati Lorenzo Pilati Atletica Bandinone Sole 1'49